il viaggio di anna inizia adesso ciao monica ciao 5 4 3 2 1 ma viene da chiamarla gilda però è la chiamò anna se vuoi chiamarla gilda chiamiamo la gilda in questo momento lei mi spinge a chiamarla gilda penso che poi venga fuori anche il perché allora quello che mi mostra è un lucchetto e lei me lo mostra davanti al cuore questo lucchetto diventa più grande e lei lo utilizza come se fosse una borsa da mettere sulla spalla sinistra quindi proprio con la parte più lunga del lucchetto che funge da tracolla la borsa tracolla sinistra me lo mostra sulla spalla sinistra si dà l'autorizzazione e mi dicessi che vorrebbe sbloccare questo questi lucchetti vibrazione di anna prima sessione tra i due i tre miliardi consapevolezza 139 ps 37 vite 2011 cervello 8.2 ok diamo un voto come a scuola da 1 a 10 ai capelli di gilda eh beh è un po' soggettivo a me piacciono che mi è piaciuto molto mi piacciono 9 9 9 è molto giusta 9 ai capelli sì molto stiloso e molto giusta con 2 g bene cinema cinema tutte le due amiche che la ospitano la sorella i due fratelli tutti i ex colleghi tutti i nuovi colleghi tutti gli amici anche i cartomanti e compagnia tutti nel cinema ma no allora dunque e il cartomante come se volesse attirare la sorella a sé perché la sorella che in passato andava dalla cartomante è venuta quasi per cercare però una specie di profezia del futuro perché alcune cose questa sorella non le ha capite fa un po' di confusione e quindi sta come cercando quasi sei la lettura della mano per sapere che cosa le riserverà il futuro e il cartomante che è fuori dal cinema vorrebbe riattirarla a sé vieni qua vieni qua quindi fuori una cartomante una donna io vedo cartomante donna quindi li lasciamo fuori sì anche l'operatrice dei registri acascici è fuori è fuori con una schiera diciamo di angeli e i due fratelli maschi sì ci sono non ti devo dire in prima fila nel senso che non sono neanche nella stessa fila una tipo nella quart'ultima e uno nella penultima la sorella la sorella la sorella è tipo in seconda fila proprio perché ha questo desiderio di sapere che cosa al futuro le può riservare appunto perché ha un po' di confusione ha una consapevolezza un po' anacquata le amiche allora dunque allora mi mescola un po' il passato e il futuro come se ci fossero delle amicizie legate alla sua creatività e queste le vedo positive anche se non necessariamente il suo tipo di creatività queste le vedo tutto sommato anche qualche collega qua e là e di questo attuale lavoro nuovo che ha appena cominciato c'è qualche uomo di cui non sappiamo nulla al cinema? allora vedo un uomo che legge tipo un giornale che può sembrare un quotidiano con gli occhiali con la barba e che è intellettualmente diciamo così abbastanza preparato interessato soprattutto ad approfondire magari alcune argomentazioni di tipo politico-economico così ecco però non vedo che lei è attratta da lui fisicamente sentimentalmente per lui potrebbe essere come cosa ha delle interferenze per Enrique Gilda sì c'è un leone un falconiforme anche se abbastanza piccolo una formica e poi c'è tipo sembra un demone un diavoletto del secondo universo con in mano un tridente un forcone basta e poi ci sono tre DL mentali me ne vengono tre una è un lucchetto apri e chiudi si chiama l'altra Gilda la terza infanzia infanzia è una sua personale entità mentale ma allo stesso tempo è anche un'entità mentale collettiva ok partiamo da lucchetto iniziamo con sempre con il livello allora me lo dà come livello 5 mi fa vedere già dall'inizio mi aveva mostrato questi lucchetti che rappresentano proprio i blocchi quindi questa entità mentale fa sì che lei ogni tanto abbia l'illusione ovviamente la forte volontà e poi l'illusione di aprire di sbloccare questo lucchetto ma poi questa entità mentale fa sì che di nuovo il lucchetto il lucchetto si blocchi quindi in questa alternanza di apparenti sblocchi ma di fatto di nuovo di blocchi nella sua vita quindi continuamente questo ciclo continuo apparentemente sembra un po' che qualcosa si sblocchi però poi in realtà effettivamente questo lucchetto è sempre lì e sempre chiuso Gilda allora Gilda mi è arrivato così e adesso non vorrei dire cose imprecise però mi sembra che fosse proprio il nome che veniva dato ad alcune associazioni alcune erano di matrice religiosa ma non necessariamente che però servivano proprio per offrire una sorta di soccorso di aiuto alle persone in difficoltà e quindi qua me lo dà proprio come una sua tendenza a voler andare incontro agli altri a scapito di se stessa trovando poi situazioni di difficoltà per se stessa certo certo quindi sacrificandosi e andando a ritorcere queste sue azioni buone contro di sé livello scusa forse l'hai detto ma attualmente livello 3 anche perché essendosi abbastanza adesso isolata chiaramente si sottopone meno queste situazioni di disponibilità di apertura ecco ma era ma dipende ci sono stati dei momenti della sua vita in cui è andata anche verso 6 con questa perché si è esposta molto infanzia allora l'infanzia qui rappresenta tutta la sua infanzia le esperienze che hanno caratterizzato la sua infanzia che non è stata integrata dentro di lei tutta una serie di torti e ingiustizie subite che lei non è riuscita a rielaborare e diventano quindi l'aggancio per tutta una serie di sventure e sfortune della vita quindi da un lato effettivamente esperienze che lei si è tra virgolette scelta dall'altro non aver avuto la capacità di comprendere questa scelta e essersi fatta condizionare per il resto della vita da questa infanzia infelice ed è un'entità collettiva che da molti viene usata anche come tra virgolette alibi l'alibi del io ho avuto un'infanzia così quindi adesso mi comporto in questa maniera che da un lato è comprensibile perché noi ci formiamo durante l'infanzia la nostra personalità non si crea attraverso le esperienze infantili però in primis c'è l'anima l'anima ha scelto quella infanzia per comprendere delle cose se noi giriamo le spalle a questa comprensione tutto il dolore che abbiamo vissuto tutte le ingiustizie di cui siamo stati tra virgolette vittime è stato inutile non è servito a nulla stavo è incredibile questa cosa stavo pensando proprio ieri a questo concetto dimmi solo il livello scusami di infanzia adesso io lo vedo ancora a 6 anche se sono state anche dei momenti in cui era più alta ancora bene io infanzia la capisco molto bene a questo punto tornerei a chiamarla Anna perché se Gilda è il nome di un'entità mentale anche no se sei d'accordo diciamo che Anna ha avuto un'infanzia difficile economicamente difficile i genitori forse lavorativamente avevano delle difficoltà lei è nata povera è andata povera e c'è questa specie di peccato originale io sono nata povera che si porta dietro il peccato originale è un'idea che secondo me si sposa cattolica che si sposa molto in questo caso se le capitasse un colpo di fortuna non se lo merita perché c'è comunque il peccato originale lei è nata povera deve rimanere povera c'è questa tendenza a pensare a fly down a volare basso che è il vero obiettivo dell'anima in questo caso sei nato con questi presupposti ti devi liberare di questo peccato originale io ti confermo che questo marchio chiamiamolo così di scarsità di povertà è confermato dal progetto che nel suo caso si chiama case popolari come ad indicare che questa povertà che è economica ma che è anche affettiva perché vedi che già dall'inizio lei mi ha mostrato il lucchetto sul cuore ma mi ha mostrato il lucchetto borsa come ad indicare difficoltà economiche e difficoltà sentimentali ok quindi scarsità di affetti e di soldi da piccola e per tutto il resto della vita marchio così case popolari bene impianti allora li vedo sul retro di Anna sul davanti non li vedo quindi l'impianto mentale è sulla nuca poi mi mostra diciamo la parte alta della schiena la zona lombare e i talloni è proprio come prenderla alle spalle di modo che lei non abbia un vero controllo io questi vedo causa esoterica del suo come la madre leggero ingobbimento allora oltre a questo impianto che ti ho detto sui due punti della schiena perché me li dà nella parte alta quindi diciamo grosso modo zona dorsale dove lei accusa questa gobba e nella parte bassa della schiena ok zona lombare quindi proprio vanno a creare una difficoltà complessivamente nella colonna vertebrale ma poi in realtà su tutta l'ossatura perché la colonna vertebrale è la parte principale diciamo così dell'ossatura del corpo e poi tra l'altro io vedo un collegamento molto forte da un punto di vista energetico fra lei e la madre perché lei ha fatto cioè praticamente fin da piccola le è stato inculcato che lei doveva essere l'esempio no per un po' per la sorella ribelle ma poi in generale per gli altri fratelli no quindi costituendo l'esempio era un po' la madre ok la madre sostitutiva la seconda madre non saprei come definirla no e quindi lei va ad acquisire tutte queste caratteristiche di piegamento chiamiamolo così di sottomissione di annullamento anche che aveva la madre che è una sottomissione alla vita che è un non so come dirti proprio un perdere le forze il peccato originale anche della madre sì 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 va bene causa esoterica delle difficoltà lavorative ed economiche questa sì è assolutamente questa il mix di entità mentali entità eteriche sì e proprio anche essere cresciuta con una cultura un po' della della scarsità della povertà e quindi quando tu cresci in questa cultura non pensi mai che potrai arrivare a grandi obiettivi pensi che non hai modo di studiare e se quindi non hai studiato farai quel lavoro lì umile ok quindi tutta anche una cultura del quartiere chiamiamola facciamola rientrare anche nel progetto che è Caso e Popolari che la mantiene così assolutamente bassa nel non potere quasi aspirare a qualcosa di meglio di abbondante di ricco per sé chiamiamo nel cinema anche la sua ametista adesso mi viene anche tipo una pietra bianca che può essere la selenite che amerebbe stare con lei c'è sì sì c'è assolutamente ametista ha dello spirito è come no certamente sì che cosa vuole esprimere come concetto ad Anna cosa vuole dirle allora è come se andasse a comunicare con la pie di Anna no scusami con la ps di Anna che si chiama clorofilla ed è come se cercasse di riattivare in Anna questa linfa vitale allora la ps sua è un po' bassa mi sembra che l'abbiamo vista intorno ai 37 38 no è come se cercasse appunto di risvegliarla di riattivarla renderla più vivace più anche reattiva ecco Anna ha anche degli organi conchiglia cuore infatti li sentivi si sentivo di più quelli conchiglia ok allora la parentesi ricerca che ci sta insomma per comprendere questa sfortuna con cui è nata e la parola sfortuna è assolutamente chiave e determinante nella sessione di Anna Anna si rivolge alcune volte a delle cartomanti trascinata dalla sorella che sosteneva appunto che queste cartomanti ci prendessero e la aiutassero trovare fidanzata lei lo trovava effetti energetici allora intanto mi fa vedere come questi cartomanti rappresentano una sorta di calamita per gli impotenti nel senso di coloro che ritengono di non avere potere sulla propria vita quindi vanno dal cartomante ed il cartomante vede e crea per loro il futuro in quanto loro ritengono di non essere in grado di creare un futuro perché il futuro è già stabilito non è così al contrario vedo che anche se inconsapevolmente Anna era già potenzialmente anche se non manifestato sviluppato di un'idea diversa e infatti questo cartomante non ci prendeva mai perché come se a un certo livello sicuramente a un livello molto annebbiato lei avesse già compreso che non esiste già un futuro ma che il futuro se lo crea lei quindi era impossibile che il cartomante effettivamente così accadeva che indovinasse perché tanto è lei l'unica creatrice del futuro è molto probabile che davanti a noi ci siano realmente in fase di esecuzione infiniti futuri non solo delle ipotesi degli infiniti futuri noi decidiamo di infilarci in uno di questi infiniti facciamo un esempio Anna ha un infinito futuro una pletora di infiniti futuri sui suoi capelli li tiene così come sono un altro li fa crescere fino alle spalle un altro li fa crescere fino alla schiena un altro se li rapa zero un altro si fa le treccine un altro se li fa viola un altro se lo fa verde ok se la cartomante le dice te li farai verdi e lei se li fa verdi e si infila in quel futuro che la cartomante è deciso per lei fine legge la domanda è legge questi futuri la cartomante e ne sceglie uno sì allora il punto è questo che noi realizziamo il futuro che guardiamo se noi guardiamo il futuro che ci fa vedere la cartomante e poniamo lì tutta la nostra energia allora quello è quello che manifestiamo tanto i futuri sono praticamente infiniti per cui qualunque cosa possa dire la cartomante è inclusa ok nei nostri possibili futuri il punto è che Anna invece sceglieva di non dare energia a quel dettaglio bravo non è un'impotente non è un'impotente detta una donna detta un uomo iniziamo tutti si iniziano a perfugare no è molto interessante che chi va dietro i cartomanti è un'impotente mi piace sensitivi due volte questa sensitiva anzi le dava dei risponsi con la scrittura automatica chi c'era di là della cornetta della scrittura automatica ma qua per esempio mi fa vedere una sorta di falconiforme angelo però non è sempre la stessa entità per questi per questo medium chiamiamolo questo ragazzo medium non è sempre connesso alla stessa entità e una volta i registri acasici vedi che però lei va a diminuire sempre di più dalla cartomante ci è andata tante volte poi due volte solamente la scrittura automatica e solo una volta ha tentato questo dei registri acasici per poi concludere che alla fine le cose peggioravano perché è una violenza perché è una costrizione ed è un'imposizione su una persona che invece sa di avere potere e quindi essendoci questa imposizione c'è una sorta di ribellione dell'anima e allora cosa fa? le fa andare male le cose per dire no vedi che questa non è la strada giusta per te ma Anna vuole capire voleva capire ed è arrivata anche lei qui oggi solitudine allora la solitudine è sicuramente legata alle due entità mentali infanzia e gilda per cui di fatto lei si difende anche un po' nel senso che per non incorrere in sacrifici perdite di se stessa per se stessa e per non considerarsi sgradita perché lei ha molta paura anche di questo di non essere davvero voluta allora lei cosa fa? si ritira che è sicuramente un ottimo modo per isolarsi da eventuali delusioni di fatto poi quando le è capitato per esempio una situazione sociale che lei quasi non voleva che è stata quella del mercatino lei è stata bene le è piaciuto quindi è vero che da una parte nella solitudine lei si ricarica perché è così però dall'altra è anche una specie di rifugio quindi vedo anche insomma questo leone quasi che le viene addosso per isolarla dal resto del mondo allergia alla gente stessa cosa sì però sai che cosa che è come se fosse anche una fase intermedia di preparazione perché lei ha delle punte di consapevolezza ma ancora non ben definita ok non ha collocato ancora bene delle informazioni dall'altra ha una serie di paure e di blocchi che gli arrivano dal passato quindi è come se fosse in questa fase intermedia in cui non riesce a uscire allo scoperto e ha bisogno di starsene da sola come se ancora non avesse neanche il giusto intuito per le persone da scegliere tendenza a sottovalutarsi in sicurezza lì è proprio rimasta agganciata questa entità mentale infanzia laddove di fatto lei cercava di fare del suo meglio però poi alla fine era il minimo che doveva fare come minimo doveva comportarsi così quindi non c'era un riconoscimento da parte dei genitori o da parte dei fratelli per quello che lei poteva fare e successivamente quando poi è stata più grande sia in adolescenza ma anche in età adulta l'entità mentale Gilda ha fatto sì che lei si spendesse per le persone ma poi non c'era un ritorno neanche di sentimenti dalle altre persone e quindi questo fa sì che lei dica boh forse allora il mio contributo non è così importante difficoltà a esprimersi rara direi aggiungerei perché insomma con noi non c'è stata no guarda più che altre come se lei partisse già che l'altra persona non la vuole ascoltare allora si incespica un po' non sa quali informazioni selezionare da esprimere più questo pensa che l'altra persona non abbia interesse è sfortunata Anna ma proprio per niente scegliendosi questa famiglia ha fatto jackpot sì perché allora intanto è come se proprio non avendo dei legami i genitori sono proprio persi nel senso che sono deceduti i fratelli non ci sono diciamo così dei legami solidi è come se lei davvero sperimentasse l'indipendenza e la possibilità quindi di creare delle connessioni fuori dalla famiglia delle connessioni offerte dall'esistenza quindi quella S lì se ne va sfortunata sì 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 rimane una grande occasione una grande opportunità offerta a partire dalla sua infanzia si potrebbe mettere una bella maglietta di superman S cioè quella S la tiene come ricordo e la trasforma in super Anna sì 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 decisamente e invece io oggi le offro un'altra maglietta che io conosco molto bene questa maglietta è di che colore come lo scegli Anna è viola come l'ammettista lo vedevo con una bella scritta gialla va il complementare viola giallo osa questo è il nuovo mantra sono le tre lettere magiche di Anna oggi la fortunata Anna bene schiena più postura causa esoterica abbiamo un po' di punti ancora lì sono appunto gli impianti che la piegano in un certo senso e poi appunto questa sua attrazione repulsione nel dover somigliare alla madre nel rivestire proprio il ruolo della madre e piegata alla vita nervi sciatici qua per esempio me lo dà legata alla rabbia un'infiammazione profonda legato a questo senso di ingiustizia subita e la voglia proprio di ribellarsi ma allo stesso tempo l'impossibilità no? perché il nervo sciatico poi ti fa camminare con difficoltà dolori articolari mi fa vedere proprio questo demone del secondo universo che a volte la trafigge superficialmente e proprio da questi stimoli lei scatta per esempio dira e non riesce a contenersi quello è l'input la pizzicata del tridente altre volte affonda proprio in profondità oltre la carne ad arrivare proprio alle ossa producendo un dolore ritenzione idrica e cellulite le diceva pur essendo molto snella allora per esempio questo io l'ho legata appena lei l'ha detta è come se io avessi visto che lei non permette è già venuto fuori il discorso per esempio della linfa diciamo clorofilla sì ok sì clorofilla al nome della PS sì esatto questa linfa che dentro di lei non scorre in maniera fluida e me l'ha fatto vedere anche attraverso il respiro come se non ci fosse un completo scambio di entrate ed uscita non c'è dunque nella respirazione già vedo che non è tanto buona la sua respirazione ma perché sta a riflettere proprio la sua difficoltà di prendere e di dare in maniera completa pulita c'è sempre una di queste due fasi che è interferita quando lei prende a volte si sente in colpa come per esempio questa ospitalità che lei sta ricevendo le produce sensi di colpa quindi nella sua inspirazione già lei non la fa a pieni polmoni perché c'è il senso di colpa la sua espirazione che sarebbe il dare lei la fa con paura a volte ha paura che qualcuno se ne approfitterà qualcuno sarà irriconoscente le farà del male quindi tutte e due le azioni di ispirazione e di espirazione vengono fatte con grande turbamento questo suo non respirare proprio perché da un punto di vista fisiologico vedo che le sta producendo delle tossine corporee che poi si realizzano proprio sotto forma di questa ritenzione idrica di cellulite vista che penso sia un calo allora cosa mi dice due cose tipo che aspetta 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 allora come se lei avesse bisogno anche se lei non vuole di uscire di più perché è un modo che lei ha in realtà per guardare più lontano quindi non solo all'interno di se stessa e del proprio piccolo mondo quindi proprio aprire il raggio della sua vista e poi di fare non so di più uso di alcune pietre che la possono favorire anche nella vista perché lei ha un ottimo feeling con i cristalli va bene rabbia l'abbiamo già vista statica isolata imprigionata annoiata dalla vita da una vita sterile più o meno è sempre la stessa cosa sì anche perché poi è anche un'autocondanna lei si impone di stare all'interno di queste case popolari che significa povertà di soldi povertà di stimoli e quindi ovviamente povertà di stimoli e poi la noia la noia è il crollo della creatività genitori portale aureo chiamiamoli prima la madre poi il padre la madre mi mi si manifesta molto piegata come fosse una specie di C quasi ecco vista di profilo ecco come se non non avesse goduto della connessione con la sorgente per stare in connessione con la sorgente hai bisogno di essere dritta invece piegata giù così aveva portato la testa molto più avanti rispetto al cuore invece se stava dritta aveva la testa allineata col cuore e la possibilità di allinearsi con la sorgente e quindi ha vissuto così sempre di più sempre di più il padre il padre invece mi viene diritto come una I due lettere la I però tipo il puntino della I è tanto staccato dal resto del corpo e poi mi dà proprio questa impressione di duro un blocco unico ecco blocco unico del corpo la testa staccata cosa dice il padre adesso ad Anna la vita è fatica la madre la felicità è per i ricchi dica entrambi la prendono la mamma sì perché ha desiderio di aprirsi di aprire questa C padre il padre dunque vedo che anche lui la prende e in effetti la testa nonché il puntino della I si avvicina un po' di più al corpo cosa dicono adesso uno e l'altro si avvicinano qualcosa qualcosa tipo la realizzazione della felicità è possibile il ribaltamento è possibile mi trasmettono mi trasmettono proprio questa sensazione che è possibile rovesciare le situazioni che non è vero che se nasci povero devi faticare essere infelice eccetera che l'esistenza è fatta proprio per operare questo ribaltamento nuova Vic più evoluta a forma di maglietta viola con scritto sopra osa in giallo come disincarnati possono usare sì mi fa vedere come vengano attratti dal portale Aureo che ha una luce violetta e che per loro osare in questo momento entrare nel portale Aureo per poi successivamente uscirne e intraprendere una vita molto diversa da questa quindi vanno sì sì e da dentro cosa dicono come ultima cosa ad Anna la loro figlia sicuramente è più sveglia vedo che gli lasciano questo vaso proprio un vaso con la terra e c'è un'orchidea e è come se lei invitasse a mettere dei cristalli piccolini intorno a questa orchidea quindi sopra appoggiati alla terra tu sai fare molto bene questo e grazie per la bellissima opportunità tutte e due lo dicono in questo momento allora che ha allungato il vaso è stato il padre però la madre si appoggia diciamo si unisce alle parole del padre considerando che l'immagine iniziale era la borsetta lucchetto ed era sul spalla braccio sinistro di Anna sinistro donna cioè femminile quindi la madre cosa dopo questa piccola premessa ha da lasciare come messaggio finale la mamma di Anna ad Anna sono dispiaciuta di aver così tanto contribuito a questa tua situazione a questo tuo blocco era il mio e l'hai assunto anche tu mi dispiace tanto ma era l'opportunità questa si presa di comune accordo sono state insieme queste due donne in altre vite questa vita che mi propone abbastanza bizzarra perché mi fa vedere che cacciavano dei coccodrilli però anche questa qui è un po' non so come dirti tra l'aggressività e la sopravvivenza come vita poi mi fa vedere una vita religiosa tipo monache entrambe invece l'altra erano due uomini poi mi sta facendo vedere qua che scartano dei regali di Natale forse erano fratelli sotto un albero però questa qui per esempio è una bella vita una vita di abbondanza perché ci sono tanti regali bei regali vedo loro vestiti molto bene l'albero molto addobbato va bene li salutiamo se ci sono altri disincarnati eventualmente dimmelo allora lo vedo forse legato a un lavoro che lei ha fatto tanto tempo fa come se ci fosse un collega che ha perso qualcuno e questo parente di questo collega vanno sì non so tipo un fratello una cosa del genere di questo che scollega sì 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 assolutamente va bene detto questo come vedi Anna? azzurra adesso non so perché è azzurra in fondo l'ho sempre saputo come se lei avesse avuto la percezione di tutte queste cose da un lato le sembravano anche troppo belle per essere vere dall'altro non sapeva esattamente come collocarle visto il suo passato visto da dove lei veniva la possiamo portare all'inizio di una gara di macchine da corsa pronta per una nuova corsa quella bella veloce quella importante la 24 ore di Le Mans solo che praticamente è l'unica che corre talmente è un outsider o gli altri lei su una Ferrari e lei gli altri sono sul triciclo ci si vede sì sì ci si vede bene vedo anche che è anche leggermente comoda quindi con il sedile dell'auto un po' reclinato perché proprio guida anche nel comfort è disinvolta all'interno dell'abitacolo è una Ferrari molto costosa oh mamma mia domande sulle auto io che non ne conosco neanche una beh sai cos'è una Ferrari sì sì però non lo so la vedo anche un po' più d'epoca rispetto a una Ferrari sì ma ci sono Ferrari d'epoca ok va bene non di quelle moderne ecco diciamo ok di che colore mi viene azzurro con questi riflessi viola bene pronta via via sui sportelli della macchina Osa di qua e Osa di là dove va Anna subito qual è il primo pit stop adesso mi fa vedere che lei si chiama anche Rosa Osa Rosa che quindi è un po' connaturato anche se lei non lo sapeva è proprio connaturato anche nel suo nome prima tappa doverosa per se stessa che desidera proprio fare è quella al cluster pit stop al cluster scende apre lo sportello scende bella grintosa con i piedi ben piazzati a terra ok quasi come se le fossero raddrizzate le gambe quindi belle solide belle forti toniche anche nella nella pelle belle idratate mi fa vedere non lo so perché è come se fosse un po' l'emblema un po' della sconfitta della noia perché mi fa vedere questi posaceneri di vetro con dentro dei mozziconi di sigarette che rappresentano un po' anche se le occasioni sprecate così me le rappresenta così il suo cluster li tiene quindi continuiamo con il peccato originale ma sì perché no non mi è mai veramente appartenuto e quindi basta e pertanto con decisione proprio vuole indossarmi questi pantaloncini corti per mostrarmi queste gambe rinvigorite no? con decisione butta via tutto dentro al portale definitivo l'identità vuole fare un panino sandwich no? per questo sandwich lo butta via vorrebbero tradurre osa con cosa punto di domanda quindi cosa fai vola basso hai questo scelto lei butta tutto sì lei butta tutto è vero che gli arriva questa suono provocazione come una mosca all'orecchia all'orecchio e butta via anche la mosca nel portale definitivo bene festeggiamo prima di creare una Deternum con Anna con una bella posa che posa assume allora vogliamo fare una foto lei dice in questo momento mi sta indicando la V di Vittoria con le dita con la mano sinistra che era quella che prima reggeva la borsa Lucchetto con la mano sinistra fa Vittoria con l'altra mano con la mano sul fianco non è possibile la classica posa guarda quanto sono figa così la vino ma la mano sul fianco la vedevo tipo yeah bene 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 e molto emozionante queste cose belle e la Deternum come lo fa? è come se lei sapesse di avere più possibilità di creare Ad Eternum perché vedo che dà una sbirciata ai suoi cristalli poi dà una sbirciatina una scompigliata anche ai suoi capelli però poi sceglie di utilizzare quel respiro che lei non utilizza molto bene ok abitualmente ed è dal respiro che sceglie soffiando di fare la Deternum uno degli infiniti che può fare consapevole di poterne fare infiniti ecco la grande opportunità di Anna che si sta sviluppando finalmente l'enorme potenziale che lei si è regalata ne fa uno così bello sicuramente adesso me lo descriverai ma sa che ne può fare centomila e più in questo momento sembra il soffione quindi con tutti questi pulviscoli bianchi perché lei in questo momento sente effettivamente leggerezza e sente proprio la possibilità di realizzare i propri desideri sai che di solito si soffia sul soffione per esprimere un desiderio e poi vederlo realizzato avatar guarda me la dà legato legato mani e piedi quindi di fatto già non non sta più scrivendo nulla lo toglie lo tiene lo lascia che fa sì perché potrebbe essere una cosa subdola da dire sì vabbè se già lì legato impossibilitato non infierisco ulteriormente però lei non non ci casca e quindi butta via nel portale definitivo via ecco qua per esempio sceglie di dare una scrollata ai suoi capelli ricci e proprio dalla sua testa esce una d'eternum che è una sorta di direi vortice mi viene bianco azzurro un po' grigio un po' grigio argento e lo lascia qui sì sì superanna ha ancora leone il falconiforme la formica l'essere del secondo universo demone e 3 dl non più lucchetto apre e chiudi gilda infanzia no non più impianti nemmeno case popolari il progetto no peccato originale no lo vedevi comunque come entità mentale probabilmente collettiva peccato originale lo vedevi così sì perché comunque strettamente legata all'infanzia sì i due fratelli e la sorella sono connessi allora sono connessi nella sconnessione nel senso che neanche loro l'hanno capito ma sono proprio dentro pienamente al fly down al peccato originale noi siamo nati poveri dobbiamo rimanere poveri sì per loro è così ok Anna e la sua maglietta osa cosa fa ce l'ha ancora la indossa l'ha capita è già il passato ha capito ma ho visto che l'ha piegata l'ha piegata e l'ha messa accanto a sé come se avesse interiorizzato tutto quanto e non ha la necessità di avercela addosso perché ha già introiettato tutto il necessario o quelle volte che dovesse decidere una grande cosa nella sua vita cosa faccio resto dove sono al palo o improvement mi creo qualcosa di più alzo l'asticella oso esatto sì sì in quelle occasioni può scegliere assolutamente di indossare questa maglietta perché la sola visualizzazione l'aiuta diciamo così a rinforzarsi in questa direzione di osare può in futuro farsene una diversa magari se vuole ojo invece di osa e in spagnolo osso è un urso quindi magari c'è un bello ossetto disegnato sì sì poi vedo che lei se la crea anche un po' patchwork perché è brava a cucire e quindi può proprio assemblare vari tipi di stoffe con diversi colori e fantasie vedi quante idee che abbiamo quante cose che creiamo in ogni sessione questo che si è ad esempio alla fortunata Anna una fortuna sfacciata sono serio una fortuna sfacciata perché si è regalata una vita di grandi soddisfazioni da adesso in poi non se ne era semplicemente resa conto esattamente esatto chi c'è degno di nota è degno di messaggi da lasciare nel cinema nel senso per te l'israele non chiedo nessuno di specifico c'è qualcuno degno di nota allora c'è un fratello che dice non avevo capito che le cose stessero così ed è molto incuriosito per se stesso perché anche lui vorrebbe fare uno scatto diverso nella sua vita l'altro il signore che leggeva il giornale ho visto che ha messo da parte il giornale aveva le gambe accavallate le ha scavallate ed è come se si fosse smosso un qualcosa che va al di là della razionalità della mente dell'intelletto ed è rimasto molto colpito ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è però non come sentimenti è perché non penso che ne sarebbe attratta da lui ma come una persona con cui è bello confrontarsi dialogare collega no non credo lo scoprirà il fratello scusa lo sa per dirlo a Anna è il piccolo o il penultimo l'ultimo o il penultimo può essere il più grande cioè il penultimo fra i due fra i due è il più grande fra dei due il penultimo ok va bene va bene nuova frequenza di Gilda partita a uno dei quasi minimi storici 2-3 adesso 212 bene Osa allora dici Osa lei alza 288 tutto qui Osa 314 Osa 516 ok è proprio la sento un po' così percorsa dai brividi no scossa quindi si può adesso l'ha visto poi la può riportare quando le pare anche a un livello più sopportabile poi quando le pare lo alza anche a 850 139 la consapevolezza quanto è adesso 179 ps 54 vite 1822 una qualunque che ha tolto degna di nota quella dei coccodrilli un'altra cacciatrice di coccodrilli tolta ah ma mi fa vedere che più volte è stata questa era tipo pescatrice ed era finita malissimo in un pescareccio era annegata e poi me ne ha tolta una bruttissima in cui lei era stata violentata nelle case popolari in un box tipo cose del genere nel passato vabbè sì 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 un'altra vita cervello 8,2 9.1 molto bene messaggio di Anna l'ha fortunata a se stessa vedo che fa un gesto così quindi sai che con il fiato sulle unghie e poi appunto si passa così sul petto come insomma complimentarsi con se stessa no per la dura vita che si è scelta e per l'altrettanto grande opportunità che si è regalata sta proprio consapevolizzando tante difficoltà io le so mettere a frutto tante sofferenze mi fa vedere proprio questa orchidea che gli era stata regalata dal papà dentro al vaso le so far fiorire così erano brutte mi fa vedere come una specie di nodo di radici marce ecco qua il risultato io sono questa orchidea che è bianca e viola l'orchidea diamo un'occhiata ai più probabili futuri possibili di Anna con queste condizioni allora è buono adesso non voglio voglio solo precisare una cosa perché può sembrare il fatto che lei tra poco andrà in una casa popolare va benissimo perché il suo trampolino di lancio per sentirsi tranquilla riguardo a una situazione base che è quella del proprio giaciglio fisso per poter realizzare se stessa vedo anche proprio questa casetta che la arrederà con molto gusto con molta personalità con molta fantasia e che sarà anche un po' il suo laboratorio e che diventerà però sì 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 sia anche un luogo in cui senza esagerare diciamo così perché lei è fatta così è comunque una persona abbastanza solitaria però vedo che ospiterà delle persone un trampolino di lancio per altre per altre storie non io sono qui ma mi merito questo qua ci invecchierò ci morirò diventerò vecchia e curva e sola con un gatto spellacchiato no ma vuole sì se vuole sì ma superanna non vuole questo non vorrà questo va bene immagine finale non so la sto vedendo che sta dipingendo le sue pareti sta dipingendo le sue pareti e sta creando delle mensole per distribuire tutti i suoi cristalli quindi si sta proprio dedicando con amore con divertimento alla casa colore scelto? adesso mi sta facendo vedere come una palette di colori vedo anche l'arancione deciderà lei messaggio di Anna a te ti sento vicina a me e l'ho capito che abbiamo molte cose in comune va bene disconnettiti da tutto e tutti